Mulaka è un colorato action-adventure con visuale in terza persona, che ci immerge nella cultura folkloristica di una specifica tribù messicana. Non sono molte le prove analoge, un tentativo simile è ad esempio stato fatto con Never Alone, che racconta di una particolare tribù eschimese. Mulaka si basa però su un concept vecchio stile, che come in Okami si pone soprattutto l'obiettivo di fare emozionare, piuttosto che proporre un elevato livello di sfida. Vestiamo i panni di un giovane sciamano, chiamato ad affrontare un lungo viaggio spirituale per ottenere la benedizione di sei divinità, che serviranno per sconfiggere il Signore delle Tenebre. Le vicende ci porteranno ad affrontare vari pericoli e alcuni dungeon. Nonostante la linearità dell'incedere con specifici obiettivi da conseguire, il videogame offre una discreta illusione di libertà, grazie alle vedute di ampi e coloratissimi spazi. Di fatto, solo se si raggiungono i limiti esterni della mappa, ci si rende conto di essere all'interno di porzioni ben più ristrette, delimitate da muri invisibili. L'elemento portante della prova è riposto nell'esplorazione. Difatti, ci viene chiesto di scovare degli oracoli capaci di trasformare il nostro sciamano in vari animali sacri, che ci permetteranno di superare diversi ostacoli naturali. Per abbattere i muri che c'erano stanze e passaggi segreti, dovremo assumere le sembianze di un orso. Per attraversare in volo piccole distanze, dovremo cambiare le nostre fattezze con quelle di un picchio, mentre per superare le rapide dei fiumi occorrerà mutare in un serpente. Ma prima di poter accedere ai vari santuari, bisognerà superare di volta in volta un portale, il cui accesso richiederà il proprio ed eutico recupero di tre pietre mistiche. Tale operazione andrà quindi reiterata. Il nostro protagonista possiede anche un'abilità innata. Riesce a fondere il mondo reale con quello divino, si da evidenziare alcuni marcatori utili alla progressione, obiettivi, personaggi, fonti di energia e preziose erbe mediche. Queste ultime sono disponibili in quattro categorie e danno corpo a un blando crafting. E una volta raccolte ci consentono ad esempio di produrre pozioni curative e bombe. La salute del protagonista è legata a tre icone a forma di rombo, che rappresentano, secondo la tradizione orale dettara omara, le tre anime possedute dagli uomini. Bisogna fare attenzione a non portare a zero tutti e tre i rombi, altrimenti si incorrerà nel game over. I nostri avversari sono costituiti per lo più da animali, insetti e strane creature partorite da racconti mitologici. Nonostante la discreta varietà di nemici, siamo alle prese con un battle system molto semplice. Possiamo contare su una polietrica lancia, utile anche per agganciare item preziosi, e sui soliti attacchi leggeri e pesanti. Non ci sono articolate mosse da imparare, le combo si realizzano semplicemente concatenando i due attacchi in puro button mashing. E solo di tanto in tanto avremo la possibilità di terminare lo scontro con una finisher. Non di rado però ci troveremo invischiati in mischie pericolose, dove i nemici ci attaccheranno anche in contemporanea. In questi casi il rischio di subire qualche colpo di troppo è dovuto non tanto all'aggressività degli avversari, quanto piuttosto all'impossibilità di rompere le nostre combo già in atto. Non essendoci poi un vero e proprio contraattacco fluido, potremo solo contare su una schivata. Alle volte però per erudere gli attacchi dei lottatori dovremo solo girare in tondo, aspettando che il loro affondo vada a vuoto, per poi passare a una comoda controoffensiva. Ad esempio nella boss fight che vede come protagonista uno scorpione gigante, basterà semplicemente porsi dietro uno degli enormi massi ubicati nell'arena e attendere che il nemico ci finisca contro nell'impacciato tentativo di afferrarci. Appena Kossui sbatterà contro l'ostacolo verrà stordito, permettendoci di attaccarlo in assoluta sicurezza. Tale manovra andrà ovviamente reiterata più volte. Si tratta però di una sequenza molto debole, poiché lo scorpione non farà nulla per evitare il masso, pur sapendo che si trova esattamente sul suo percorso. Ad ogni modo, una volta sconfitti i nemici, si ottiene una sorta di energia spirituale che può essere usata per acquistare piccoli upgrade. La popolazione dettara omara è nota per le grandi abilità aerobiche, legate alla caccia di animali molto agili. Così pure il nostro personaggio è stato dotato di una straordinaria corsa che gli permette di inseguire alcuni nemici erosivi. La longevità si assesta sulle circa dieci ore. Siamo alle prese con uno straordinario mondo fatto di spiriti guida, totem e seducenti storie sull'origine della vita. Il design degli ambienti naturali, costituiti soprattutto da deserti e montagne, risulta evocativo, pur affidandosi a linee molto squadrate e una scarsa mole poligonale. I modelli dei personaggi sono più curati rispetto alle forme degli edifici e sono caratterizzati da animazioni buffe e teatrali, che insieme ai colori vitaminici della produzione trasmettono un'allegria contagiosa. Le musiche tribali accompagnano bene il giocatore per tutto l'arco delle vicende, innalzando il ritmo in presenza delle sfide più impegnative. Mulaka è stato realizzato nel pieno rispetto degli ambienti e della cultura tara-aumara. Sono stati persino coinvolti degli importanti storici della popolazione indigena. Inoltre, parte degli incassi ottenuti col videogame saranno devoluti a organizzazioni impegnate nella tutela culturale della tribù. L'iniziativa mi ha colpito molto, ma devo comunque giudicare il videogioco per quello che offre. Le meccaniche sono molto semplici e a livello tecnico non ci sono soluzioni che lasciano il segno. L'estetica è evocativa, ma la mole poligonale non fa certo gridare al miracolo. Lo consiglio a chi ha voglia di tuffarsi in un'atmosfera platform da altri tempi, ma non è una prova adatta a chi incerca di grandi sfide.